Ciao a tutti amici di Focus Tech e benvenuti alla nostra recensione della Canon EOS RP la sorella minore della Canon EOS R che abbiamo visto qui sul canale qualche mese fa caratterizzata da alcune specifiche molto interessanti infatti presenta sensore CMOS full frame da oltre 26 megapixel nonché un'ergonomia e dimensioni relativamente ridotte in quanto ha un peso di soli 485 grammi, naturalmente senza ottica ma con incluse batteria e SD e ha un'impugnatura abbastanza salda e profonda il che mi facilita l'utilizzo con una sola mano e ne rende sicuramente il prodotto più versatile anche in utilizzi in mobilità oltretutto abbiamo un bellissimo display posteriore completamente orientabile utilissimo proprio anche per la registrazione di vlog e selfie il prezzo di vendita attuale si aggira attorno ai 1350€ in kit quindi con corpo macchina e obiettivo ma adesso la mettiamo sotto torchio per capirne le specifiche tecniche e vedere anche come scatta e registra video dopo la nostra sigla esteticamente il prodotto raggiunge dimensioni di 132,5 x 85 x 70 mm di spessore con un peso che si aggira attorno ai 485 grammi incluse SD e batteria mentre è esclusa ovviamente l'ottica il corpo è realizzato in l'era di magnesio con rivestimento in policarbonato ed è tropicalizzato quindi resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere nella parte anteriore troviamo un'impugnatura molto profonda e salda non sarà profonda quanto abbiamo visto ad esempio sull'ultime Fujifilm o anche sulle Panasonic però vi posso assicurare che si può tranquillamente utilizzare la macchina anche per una lunga giornata di riprese o di scatti fotografici in mobilità senza alcuna difficoltà proprio perché il peso è relativamente ridotto quindi non mi vado a pesantire il braccio e questa presa molto salda mi permette chiaramente di avere la sicurezza che la macchina non mi cade da un momento all'altro nella parte superiore abbiamo alcune ghiere in parte personalizzabili sulla sinistra troviamo la ghiera di accensione e spegnimento mentre sulla destra abbiamo la ghiera principale che mi permette di spostarmi tra le varie modalità di utilizzo due ghiere personalizzabili il pulsante FN il pulsante lock che blocca tutti i pulsanti e il touchscreen posteriore e un piccolissimo pulsante di registrazione il tasto di scatto è stato posizionato più nella parte anteriore che superiore ma devo dire è facilmente raggiungibile ed è molto comodo al centro della parte superiore troviamo il mirino elettronico OLED da 0,39 pollici 2,36 milioni di punti con copertura dal 100% ingrandimento 0,70 per e sensore di prossimità interrato quindi per facilitare il passaggio automatico tra mirino e pannello posteriore la resa è più che sufficiente anche se appare essere di un radino inferiore rispetto a tanti altri prodotti della stessa fascia di prezzo il refresh rate è adeguato ma ciò che manca è forse un po' il dettaglio e la nitidezza delle immagini che vengono riprodotte questo non vuol dire che sia di livello inferiore che sia troppo scarso ma se confrontato con altri prodotti della stessa fascia di prezzo abbiamo notato una piccola differenza proprio in termini di dettaglio e di nitidezza sui bordi troviamo tutta la connettività del caso sul lato sinistro abbiamo un jack da 2.5 mm per il controllo da remoto due jack da 3.5 mm differenti per cuffie e microfono esterno nonché una usb type c per il collegamento ad una presa muro o la ricarica e la mini hdmi di tipo d naturalmente per il collegamento ad un monitor esterno lo slot sd singolo è stato posizionato nell'alloggiamento della batteria nella parte inferiore la cui batteria purtroppo rappresenta il tallone d'achille di questa EOS RP in quanto non è particolarmente soddisfacente infatti secondo i nostri test si possono raggiungere all'incirca 250 scatti con il display posteriore prima di dover ricorrere alla ricarica e dobbiamo ammettere essere davvero troppo pochi nonostante questo però si può ricaricare collegandola direttamente tramite una usb type c e quindi anche un power bank dalla potenza adeguata il che sicuramente è un aspetto che risolleva la situazione nella parte posteriore abbiamo la classica disposizione dei pulsanti Canon manca ovviamente il pad per regolare la messa a fuoco ma la nostra attenzione è attratta dal pannello posteriore questi è un monitor lcd touch screen clear view da 3 pollici quindi 7,5 cm di diagonale da 1,04 milioni di punti con copertura dal 100% e soprattutto angolo di visualizzazione di 170 radi sia in orizzontale che in verticale un aspetto importante proprio per estendere ancora di più le possibilità di utilizzo e la versatilità del prodotto purtroppo la luminosità sebbene sia adeguata per l'utilizzo sotto luce solare diretta è solamente manuale e quindi dovrà essere impostata direttamente dal menu stesso la qualità generale di questo pannello è più che sufficiente abbiamo notato un ottimo dettaglio e un'ottima nitidezza buona complessivamente la resa cromatica la quale risulta essere fedele rispetto agli scatti che poi potremo visualizzare una volta scaricati dalla sd il touch screen funziona molto bene è reattivo e rapido e da segnalare anche la possibilità naturalmente di utilizzare questa funzionalità anche nella navigazione tra i menu cosa non scontata su altri modelli l'aspetto più importante del pannello posteriore è l'essere completamente orientabile infatti noi abbiamo quella versatilità che troviamo ad esempio sulle panasonic di ultima generazione e che è sicuramente un plus per un prodotto che risulta essere abbastanza leggero e piccolo utilissimo anche per la realizzazione di video vlog o scatti di selfie in mobilità davvero un aspetto molto ma molto interessante nella parte anteriore invece è stato integrato un sensore CMOS full frame quindi da 35,9 x 24 mm da 26,2 megapixel effettivi con filtro passabasso e filtro a colori primari questi è accoppiato con il classico processore digicotto per l'elaborazione delle immagini l'otturatore con scorrimento verticale sul piano focale è controllato elettronicamente ha una velocità di posa che uscilla tra un 4 millesimo di secondo e 30 secondi con scatto continuo purtroppo a soli al massimo 5 frame per secondo ed è una velocità abbastanza ridotta il che mi limita sicuramente i campi di azione e di utilizzabilità della macchina le immagini possono essere scattate fino ad un massimo di 6.240 x 4.160 pixel con ISO che oscillano tra 100 e 40.000 con estensione naturalmente fino a 102.400 all'aperto quindi in condizioni di forte luminosità la qualità risulta essere buona in linea perfetta con la fascia di prezzo di posizionamento la gamma dinamica è ottima il contrasto risulta essere più che soddisfacente e soprattutto in post produzione abbiamo la possibilità di recuperare molto bene sia le ombre che i dettagli in tutto il frame questo dimostra quanto il sensore sia buono e mi permetta di ottenere scatti nitidi ben contrastati e dettagliati in tutto il frame non solo in una determinata area è purtroppo una macchina un po' più limitata per la fotografia sportiva o fotodinamiche in quanto abbiamo l'assenza sia dello stabilizzatore ottico che uno scatto continuo veramente ridotto in termini di velocità massima in condizioni di scarsa luminosità gli scatti sono risultati essere più che soddisfacenti è davvero difficile realizzare i mossi abbiamo dettagli molto precisi con una gamma cromatica molto ampia il che mi permette di scoprire tutte le singole sfumature che andremo effettivamente a riprendere in situazioni estreme risulta essere un po' complicato recuperare buone informazioni dal nero senza andare a portare rumore digitale all'interno dello scatto anche a ISO non particolarmente elevati infatti con ISO che possono oscillare tra 400 e 800 ciò non sta a significare che gli scatti a questo livello di ISO sono pieni di rumore digitale ma che in post produzione potrebbe essere difficile recuperare un buon dettaglio senza portare rumore ma solo e lo risottolino in situazioni estreme in scatti normali abbiamo buoni ISO fino a 3200 poi andando oltre si vede e si inizia a vedere il rumore il che sicuramente è in linea con quale che erano le nostre aspettative i video possono essere realizzati al massimo in 4k a 24 frame per secondo a 8 bit con un tempo di registrazione massimo di 30 minuti o 4 gigabyte a file a 120 mbps se registrerete con questa risoluzione avrete un crop a 1,7x quindi tenetelo ben a mente se effettivamente vi interessa il 4k come al solito la resa cromatica in termini di dettaglio in itilezza è più o meno in linea con tutto quanto vi ho raccontato da un punto di vista fotografico e ci vogliamo focalizzare su autofocus e stabilizzazione l'autofocus di questa EOS RP è il famoso dual pixel CMOS con copertura orizzontale dell'88% e verticale del 100% quindi mi va quasi a coprire tutto il frame e una velocità di messa a fuoco pensate di soli 0,005 secondi questo autofocus lo avevamo già elogiato su precedenti modelli di casa Canon e devo dire che funziona molto bene anche nello scatto nella capacità di riconoscere gli occhi di effettuare eventualmente il tracking del viso del soggetto e nella possibilità di passare da un soggetto all'altro molto molto rapidamente e quindi di essere quasi a livello di altri prodotti più recenti o più votati al video quindi di base abbiamo una dual pixel CMOS che soddisfa al 100% naturalmente entro certi limiti il problema qual è? è sempre il solito ovvero la impossibilità di sfruttare questa tipologia di messa a fuoco con registrazione in 4K ciò sta a significare che parlando ovviamente di video sarete sempre costetti a registrare in full HD per potervi godere il dual pixel CMOS in caso contrario dovrete attivare l'autofocus con rilevamento di contrasto il quale è sicuramente molto più lento e più inaffidabile del dual pixel CMOS di cui vi ho effettivamente appena parlato naturalmente nessuno è obbligato a registrare in 4K però la differenza tra il 4K e il full HD in termini di autofocus è davvero notevole la stabilizzazione purtroppo è solamente digitale a 5 assi non abbiamo lo stabilizzatore ottico sul sensore e la differenza si vede infatti non sarà la peggior stabilizzazione elettronica di sempre ma è di un gradino inferiore rispetto alle macchine appositamente pensate per il video le quali interano proprio stabilizzatore ottico sul sensore infatti potremo tranquillamente effettuare panna a mano libera soprattutto se avete la mano abbastanza ferma e allenata è un po' più difficile riprendere camminando in quanto sarà necessario essere veramente molto stabili per produrre un video soddisfacente nel complesso questa stabilizzazione poteva essere migliore il che mi porta a limitare ancora di più la capacità video e il comparto video di questa Canon EOS RP in aggiunta ai problemi dell'autofox di cui vi ho parlato in precedenza in conclusione questa Canon EOS RP a me personalmente è piaciuta è un buon prodotto pensato principalmente per scattare ottime istantanee se state cercando un dispositivo per realizzare video forse vi consiglio puntare verso un altro modello in quanto questa EOS RP soprattutto nel comparto video è abbastanza limitata ma come al solito suddividiamo aspetti positivi e aspetti negativi tra gli aspetti positivi hanno ovvero prima di tutto la qualità degli scatti fotografici infatti le immagini sono davvero molto molto dettagliate nitide hanno una gamma dinamica decisamente ampia il che sicuramente mi facilita e mi fa preferire questa macchina a tante altre proprio per la ricchezza della gamma cromatica e soprattutto per il dettaglio e la nitidezza che è in grado di estrapolare da ogni scatto in ogni condizione di luce il secondo aspetto che ho ritenuto essere positivo riguarda l'ergonomia perché non considerate l'ottica che abbiamo installato noi ma il corpo è veramente molto piccolo soprattutto in confronto ad altre full frame che troviamo sul mercato e ha un peso relativamente ridotto sono 485 grammi senza naturalmente l'ottica con SD e batteria ed è un aspetto importante proprio per garantire una maggiore utilizzabilità in mobilità ed è anche in questo caso un qualcosa che non sempre troviamo inoltre ha un'impugnatura abbastanza profonda il che mi permette di avere una presa salda per facilitare quello che è l'utilizzo con una sola mano l'ultimo aspetto che ho ritenuto di essere positivo riguarda un aspetto un po' di contorno di questa macchina infatti sul lato come avete sentito nel corso della recensione abbiamo due jack da 3.5 mm distinti anche in questo caso mi facilita quello che è l'utilizzo ad esempio di cuffie o microfono esterno senza dover andare a condividere lo stesso jack stesso discorso vale per la presenza della USB di tipo C sempre sul lato in questo modo noi potremo ricaricare la macchina e ormai lo si può fare quasi con tutti i modelli che troviamo attualmente sul mercato soprattutto di ultima generazione dicevo possiamo ricaricare la macchina senza dover necessariamente utilizzare un caricabatteria che troviamo direttamente in confezione la collegheremo ad esempio ad un powerbank e potremo poi ricominciare ad utilizzarla questo è importante perché la batteria di questa EOS RP è purtroppo decisamente scarsa ed è uno degli aspetti più importanti negativi infatti la batteria mi permette di scattare all'incirca 270 istantanei e sono davvero molto pochi rispetto a quanto il mercato attualmente è in grado di offrire continuando con gli aspetti negativi posso raccontarvi di una raffica di scatto davvero ridotta infatti 5 frame per secondo sono molto bassi e mi limitano chiaramente le possibilità di utilizzo per una fotografia sportiva o per fotografare quelli che potrebbero essere eventi dinamici l'ultimo e grande aspetto negativo riguarda il comparto video infatti come vi ho raccontato nel corso della recensione il comparto video su questa EOS RP è decisamente limitato non sarà il 4K 24 frame per secondo con un crop abbastanza elevato il limite più grande ma proprio la impossibilità di utilizzare l'autofocus tanto elogiato ovvero il dual pixel CMOS con registrazione in 4K già lo avevamo visto su alcuni precedenti modelli di Canon e anche con questa EOS RP noi lo potremmo utilizzare solamente con una registrazione in full HD se vorremmo registrare in 4K dovremmo adattarci a utilizzare l'autofocus con rilevamento di contrasto che è sicuramente meno prestante e meno performante del tanto rinomato dual pixel CMOS è una limitazione in questo caso molto importante come anche l'assenza di uno stabilizzatore ottico sul sensore noi ci dovremmo affidare a uno stabilizzatore elettronico che risulta sia essere a 5 assi ma che è limitato proprio in termini di resa video sia nell'effettuare un pan a mano libera sia ad esempio mentre noi stiamo riprendendo camminando e quindi tutto questo un aspetto che mi porta a considerare questa EOS RP non adatta principalmente all'utente che vuole registrare video di altissima qualità e soprattutto godere di una stabilizzazione di un autofocus di alto livello infatti come vi ho già anticipato se stavate cercando una macchina per realizzare ottimi video vi consiglio di puntare su Antrimirrorless e di avvicinarvi a questa EOS RP soprattutto e soltanto se volete una qualità fotografica decisamente di alto livello il prezzo attuale di circa 1350 euro è più che adeguato per la resa complessiva in termini proprio di qualità degli scatti fotografici e di ergonomia e personalmente l'acquisterei ad occhi chiusi se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i futuri video grazie a tutti